olimpiadi ci stiamo abituando bene molto bene forse pechino non era il luogo più adatto per spitare i giochi e le imitazioni legate al pubblico certamente non aiutano però gli azzurri chiusi nella loro bolla tirano dritto come se niente fosse e allora sicuramente di oggi ci resteranno le lacrime di ariana fontana abbracciata al marito allenatore dopo aver vinto la medaglia d'oro sui 500 metri nessuno al mondo mai come lei nello short track ed è la seconda medaglia d'oro nella carriera dopo quella conquistata in corea quattro anni fa fra le azzurre raggiunge pensata addirittura il record di stefania belmondo con 10 medaglie olimpiche nello sci di fondo la valtellina ma anche l'italia intera oggi si è fermata per tifare ariana un po come faceva tanti anni fa per alberto tomba ancora i brividi ho tagliato il traguardo urlato c'è tutta la rabbia che avevo dentro lo è esploso in quel momento è stata veramente una una liberazione io spero che mio papà non gli sia preso un attacco di cuore che li ho visti prima ho visto mio fratello erano in piazza da berbenno e la mia famiglia degli stati uniti e gli ho detto di festeggiare poi per lui per me stasera e poi festeggeremo una volta a casa e del resto abbiamo ancora negli occhi l'argento di sabato nella staffetta mista con ariana fontana grande trascinatrice ma poi anche il preziosissimo contributo di martina e ariana valcepina e poi ancora di pietro sigla andrea cassinelli giuri confortola una scuola azzurra d'alto livello a proposito oggi pomeriggio ariana valcepina è salita fino alle semifinali sui 500 metri brava brava anche lei e i giochi in cina per la campionessa di polaggia di berbenno non sono ancora finiti nei prossimi giorni sarà infatti in gara nei millimetri nel 1500 nella staffetta e noi naturalmente facciamo ancora il tifo per lei e poi c'è lo sci debutto con un ventesimo posto per lena curtoni nel gigante una gara che ha portato all'azzurra la prima medaglia di questa edizione nello sci alpino grazie al secondo posto di federica brignone curtoni tornerà in pista venerdì in super g la sua gara insomma cari azzurri ci siamo abituati bene molto bene